Italiani nel mondo la fondazione, italiani nel mondo il movimento politico, italiani nel mondo per rivalutare il nostro territorio tanto bistrattato, italiani nel mondo per una vera alternativa politica. Il 6 e 7 giugno diventa protagonista del tuo futuro. Vota alla provincia e al comune, italiani nel mondo. Grazie a tutti.